Ciao a tutti, mi trovo a Torino e sono qui al Parco Valentino, tanta gente, e lei è la sorella Margherita. Ti prendo con la star, per la star ti prendo. Andiamo, andiamo, stiamo entrando al bordo. Ancora Gesù è messo sulla croce, è risorto, alleluia. Qua siamo al Borgo Vecchio. Adesso andiamo con i demoni. Andiamo, no, qua esiste il Borgo Vecchio. Il Borgo Vecchio, vedi che quello lì sotto ha un sintetetto un po' di demoni. Qua, questo? Sì, quello lì col bastone. Guarda, tieni tu così, non muovere così, metto avanti a te così mi riprendi. Guarda, andiamo, vieni, vieni, stiamo entrando al Borgo Vecchio. Venga, tu spiega, Margherita. Ah, stiamo entrando al Borgo Vecchio, quindi quel bastone, con quell'uomo lì ha a che fare con l'isolatria. Poi qua sono tutti i santi, tutte le madone che c'erano allora. Qui adesso entriamo nel Borgo Vecchio, il quale è medievale, e qui era dove viveva il re, quando Torino era la capitale. Questa è tutta le case, e ogni sottoportico c'è oggi uno dei negozi. E poi c'è Francesco che fa, yuhuuu, acqua finalmente. Dai Francesco, adesso Francesco riprenderà tutto. Siamo gli unici qua in mezzo a tutti questi, poi qua sotto sono tutte cose che vendono. Eppure, questo è tutto il Borgo Vecchio, tutto quello che, qui sono i muri che facevano, cioè che hanno fatto anni fa, e ogni cosa adesso sotto sono dei negozi. Negozi che cercano soldi, e noi invece siamo qua a testimoniare di Gesù. Alleluia! Amen! Adesso passo il capo. Aspetta, aspetta, quale vedere ancora quello? Allora c'è qualcosa che voi potete vedere, non so cos'è questo? Questa è la chiesa, la chiesa vecchia insomma, e si può anche entrare forse dentro e vedere. Questa è il Borgo, hanno fatto tutti i negozi. Ah, questo è il Borgo? Sì. Ok. Hanno fatto tutti i negozi, la biglietteria, siamo andati a andare a bere dentro, che c'è l'armeria, e quella di la biglietteria. Vabbè, ma adesso li salutiamo, dai, nell'amore del Signore a tutti quanti li salutiamo. Aspetta, qui c'è il Fonzo, che si è portato dentro, i soldini dicono che portano fortuna, ma a me sembra che portano fortuna loro, che si li raccogliono. Però non esiste questo, non esiste qua. E noi due riceviamo, sono Gesù. La fortuna, a me. Amen. Gloria a Gesù. Dio benedica a tutti, da Aldo, da Margherita, un saluto con la pace del Signore. Vogliamo bene.